Dopo sta partita sette un attimo il mouse di nuovo Gente qua Tato 50 Aspetta aspetta Siete solo Toccato uno Un altro dietro Cade un altro Ma sei un mostro C'è uno sopra e in alto con i palloncini che sta cadendo E' one shot ma lo faccio io Terra Boom l'ho preso in volo Stava cadendo No ma sei un god Dude Shit brother Ma stiamo scherzando Aspetta che ho visto un altro pompa leggendario qua No Hai colpi sniper Per la deagle Si Tieni C'è mitraglietta silenziata blu se vuoi No no lo so dico Chi l'hai? Ehm 5 Fuck Ti ho trovato uno forte forte allora Vabbè sono già full Dai cerchiamo di arrivare primi in classifica Quanto era già il primo in due? Abbo Cioè abbiamo fatto sette kill allo sarto Buono Mi manca la zipline con la lì che sparcava tutto qua Dai Vabbè capirio quante volte sono morto per il zipline Non far caso quando punta a volte perchè sto guardando la mappa Devo togliere il coso Eh lo so Goro Cioè adesso troviamo anche un po' quelli inabetti però c'è da vedere Vediamo quante In secolo ho fatto due partite 38 punti 2 3 4 Ieri ho fatto una partita della madonna In... come in scream Allora è rimasta l'ultima safe Non tenevo materiali Tutto scarico Questo mi sparavo con l'ancelanzi da sopra Uscivo dalla safe E rientravo Gente qua che si chiusa Si ho visto Si ho visto Serious Colpi piccoli quanti ne hai? Allora piccoli non li uso Vieni qua 58 Te li ho dato 28 bianco a uno Quello rosso 28 bianco C'è uno boxato giù Vado a prendere questo rosso pensa a quell'altro Ok Morto Vai è morto un altro Nice Noi ho caduto i colpi piccoli che non li uso Oh Di pronta? L'ho visto visto L'ho visto visto Mi sembra uno eh Tu hai steso quello l'hai confermato no? Si si no no era solo L'era questo il compagno Vai presto 105 Steso No vabbè potevo darti di scegliere Non finirlo 30 Bianco bianco Morto Morto Tieni qua Non ho bisogno di niente Ma i piccoli piccoli Mi prendo questa per la final Eh Vedete questa Non c'era un Una R migliore Aspetta che mi hai dovuto l'altra Ma io ormai ho lì a capo Qua c'è lo slurpo Io c'ho gli shieldini Fatelo solo Ok Bella le bronze Dai Mazzi sei messo bene? Eh Si si Kill bro Quante ne hai? Il 6 Io 5 dai Quando ho visto le bronze Più forte Pensavo che erano le bronze E ho detto Ciao le bronze Perché io c'ho giocato Con lui non mi conosce Ok Vai Sei di Torino? Si smug Oh c'è un baule qua Me lo apro Eh una troppola Ecco qua Eh? Bro Crash No non ho neanche una troppola Dio Chiam bro Aspetta mi si stanno aprendo Dai altra gente Ci sei bro? Si si Mi sta risalendo la febbre Perché sto cominciando a sudare C'è una R qua eh Se vuoi Verde C'è una? R verde Ah Tanta Tanta differenza Gente gente Al lago di fronte Stavano col deltaplano Eccoli su due team Li vedi? Stanno fai danno Volo, volo io Voli? Che c'hai? C'hai il deltaplani Ok Ho fatto cadere uno Arrivo con la palla Prova di danno 31 blu Oh Jacoby C'è un altro di qua 55 Tanto dietro Morto? Un altro qua C'è un altro qua Ce l'ho anche dietro Morto? Bravo C'è un altro Morto Ah altre gente? Sì Sì L'ho anche il cinque Prendi lancia razza Poi se la minigone Mi tiro la cittura Poi io tengo il cecchino Vai razzi Razzi? sei? Mazzo sei a posto? Full di tutto? Sì sì Full di tutto Pampa nuovo c'è la leggendaria giusto? Sì 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 Se trovo un'altra pallace 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 Tipo per la final Però F F F Co No Non mi devi prendere F Vado a farle Vado a tutto questo veloce poteca testa cosa Dudu Bella sta jump Va bene le bronze Aspetta vedo un attimo Ok c'è gente davanti Eh sto usando il coso E' straveloce Andiamo a vedere il rift sulla montagna Il rift No lo prende lui Non è vero Io l'ho preso lui C'è una palla qua giù E giriamo un attimo Ok gg dai 11 punti la prima partita Sarebbero 14 eh Un dietro Ah no jump No 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 Muerto uno Vai tutto dietro Vai 36 io ho levato cadendo Vai Bravo Sistete tre e c'è un po' di 50 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 No, no, l'ha hit, però. Ricarico il cecco. Guarda, è mento la cosa. Due volte 31 a 1. 44. 1 con 7, per esempio. 1 con 7, per esempio. Vai, Marti. Altra gente di fronte. Ah, è jump. Io ce l'ho, io ce l'ho, vieni. 33, 33. Ho tante, io le vado. Ci s'altra gente, altri due dì. Terra. Qua c'è un'altra. Vai, Marti. C'è gente, qualcuno? Sono a montagna. Visti, visti. Terra 1, terra 1. Eh, uno jump, vado. Vai, 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 vai. Una terra, non farlo resettare. Io salgo. Guarda, l'ho finito. Ok, gli hai confermato il compagno. Hai matchkinato. Bravissimo. Vado a lottare quell'altra. Ok. Quante kill hai? 13. Nice, brother. Siamo a 23 kill, dude. Serious? Io, prendi, ci sono varie palle. Prendi queste palle, andiamo a spostarci. Che bravo, facciamo 30 punti in una partita sola. Ehi, sono un compagno decente, finalmente. Qua c'è una slurve, non l'hai presa? Eh, aspetta, fai da dove c'è sta gente. Cusci? Mi serve una vita. Vengo, vengo. Rivedo, rivedo. Uno sopra la casa. Sei dietro di lui? Vittato. Sono 155, faccio che ho l'hame. 37? Hai una jump? Sì. Ok, vedi, 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 vuoi busciare? Sì. Mettila qui. Andiamo in safe, fra? Ok. O vuoi busciarli? Eh, va, busciamoli tanto ormai. Non lo sai fare tanto. Vai, vai. Sono dietro uno. Sono tutti e due qua dietro l'albero. Uh, bella che sono su di te. Uno è watch, ho te. Morti. Bella. Jump, jump. Piazzala. No, aspetta, 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 mi sta bugando tutto. Oh, lo vedi questa? Sì, lo vedo. Nice. Ah, c'è, seguo il compagno all'airdrop. Io vado qua dietro, visto che si concentra la stilità e vado dietro di loro. Bella. Mi tiro il ciocco. È da canale sta partita, dude. Holy shit, bro. Stiamo facendo il devasto. Quanti kill hai? 12, tu? 16. Arriva gente? Sfuffa. Questo è l'ultimo, è l'ultimo. Fra. Egi. Quante kill? Ehm, 17. 17? Sì. Dude, bro. Shit. 36 punti in una partita. Ma quanto cazzo siamo forti? Damn. Dude, brother. Fra, sei troppo forti. No. Sei troppo forti. È da canale sta partita. Cioè, abbiamo, non vorrei dire, 36 punti in una partita. Distrutti tutti. Muti. Bro, ma raggiungiamo il primo. Andiamo primi in classifica. Ok, vediamo quant'è la classifica. Ma non c'è ancora. Ah, no, classifica. Eh, uno, il primo ha 84 punti. No, quello è in solo. No, ah, in solo. 113 in duo. Eh, ok. Arrasse, è troppo forte. Cioè, io 12 bombe, ho 17? 17? Sì. Aspetta un attimo, Bomber, due minuti che mi bombo una ceca. Manuel, niente, ma sei troppo forti. Ho trovato un compagno. Cioè, vediamo prima. Però comunque sei fortissimo, sti cazzi. Alfa, io sono andato dopo a scuola, mamma ho parlato e ho detto che è una solo una simulazione. Già, mi fai da parte. No, ho lì, scelto. Da canale, sto partito. Sì, sì. Ah, la carico, che faccio. Partite vinto con 38 di febbre. 36 punti in una partita. Eh, io 38 di febbre, abbiamo vinto i 36, vabbè, alti dei punti. Dì, pensiamo dopo facciamo altri 36 punti, Fra. Eh, siamo illegali, ci buono. Bella, best. Vabbè. Vabbè, hai fatto con qualcun altro 36 punti in una partita? Eh, no. Teoricamente sarebbero 39, eh. Eh, sì, però sto gioco di merda, 9 punti, quindi. No, io dovevo entrare in teorie dei Notorious Legend e NL, non so se li conosci. Eh, pure a me mi hanno chiesto di entrare. Eh, eh, solo che di aver 16 anni per il contratto, quindi. Io non sono entrato. Eh, tu quanti anni hai? 18. Eh, vabbè, vabbè, 13 per fare il contratto, ne ho avuto altri 3, quindi 16 anni. Eh, io non sono proprio entrato. No, a me mi ha detto cose che non posso dire. Poi tradizio, magari fallare. Beh, bro, me l'hanno detto anche a me, vedrà. Perché avevo provosto a me e a Rai e lasciato degli Astral. No, io, io, fidati, sono un botto in cerca di un compagno di duo. Ehm, questo è, cioè, non ho mai giocato una partita così fatta, cioè, senza, proprio, easy. Sto prendendo lo spray. Solo con Pitit ho giocato così. E con Pitit facevamo ogni giorno 30 bombe partita, minimo. Ah, Pitit, ma non c'è già con Pitit. Eh, no, adesso è entrato nei macete, c'è il suo compagno di due, deve giocare con il suo compagno di due. Macete, che tipo? Eh, è quello del... Eh, conosci Nitro, Salmo, la macete che io? No. Hanno creato anche un team di fo... Non conosci Salmo? Salmo chi è? Il cantante. Ah, quello! Ok, c'è già un team. Nitro! Nitro, sì, sì, sì. La loro, la loro casa discografica, la macete Crew, hanno creato anche un team di Fortnite. Ma what the fuck? Infatti, appena sono entrati nei macete, Kygoods ha preso il botto ed è salito a 25.000 iscritti, Pitit è salito a 18. What the fuck? Eh, lo so. Io ho giocato al Rainbow. Eh, ma perché erano un bel duo, eh? No, li conosci, lo conosci Rainbow Sixx, il gioco. Ce ne eredavo sulla play. Eh, io avevo giocato, io ho giocato con Batman, uno per sì. Buona scuola, Manuel. Ah, io dà un botto che cerco un compagno di duo. Uno può fare un tempo di allenarmi un po'. Dude. Cioè, io voglio provare più che altro, è tra gli str, solo che mio padre lo mi fa donare e quindi lo ecchiappo dietro. Ma non potresti, hai 13 anni. Che cazzo c'è? Inzi da 14. Eh, ma da 14 puoi? Eh, vabbè, l'anno prossimo. Non in più, non in me. Dai, trova questa partita che arriviamo subito a 80. Non solo la trovo, perché se volete 30 punti. Eliminazioni, 29 punti abbiamo fatto con le eliminazioni. 3 punti vittoria reale, 7 punti piazzamenti. Praticamente abbiamo fatto tutti i punti con le eliminazioni. Ma adesso comincia a essere un po' più difficile. Eh, lo so. Nel endgame scrimano tutti. Gli è una partita per il 6 punti. Nice, po'. Dai, ma la partita la trova? Ho capito che siamo illegali, ma trova questa partita, dai. Forse ci ritorno, Dadoz. Molto probabilmente ritorno nei Phasma. Dai, ho trova questa partita, è un gioco di merda. Server fanno schifo ultimamente. Cioè, poi 5... Non mi andava, non ero pronto, buono. Non ero pronto. Non ero pronto ad entrare nei Notorious e adesso... Quasi me ne pento, sinceramente. Ma alla fine del tutto non si gioca con capi wizard o la gente in live. Insomma, lì di... Io ho fatto pure 1v1 con wizard in live da lui. Ah, io no. Da 3-2 per lui. E lì c'era pure Snugged. Eravamo io e Snugged contro... Contro di lui. Da lì Snugged ha preso il bot. Ragazzi, io ve lo dico, se oggi pomeriggio non sono in live, faccio uscire il video di questo... Di questa partita. Da un botto la partita che abbiamo fatto. Bro, di un attimo ciao in live. Scrivi ciao. Io? Eh. Aspetta che l'avro. Oh. Ciao? È quello che vuoi. Vedo un attimo la tua live. L'ho scritto. È pochi di iscritti per giocare così. Non so, non so. Ma aggiusta la schermata, bomber? Eh, non me lo fai giusto. Con cosa? Con cosa streammi? OBS. Tasto destro e poi adatto lo schermo. Tasto destro. Sì, not pro. È mosso. Eh, vedi come esce, esce con le bande. Ah, minchia, ti esce male. Perché ti esce così male? Estendi tutto schermo, non c'è? Eh, tasso destro. Allora, trasforma, come per esempio, adatto lo schermo in dimensione come lo schermo. Ecco qua. Ah, ok, va va. Ok, ma me l'ho messo bene. Bella not. Ma no, no, l'ho messo bene. E perché non parlo più? Gioco di merda. Non mi parlo in chat. Perché non posso cliccare più, cazzo? Non so perché ci mette così tanto. Io sto cominciando a subire la... Il sonno. A subire la... Il sonno. Vai, riavvio anch'io, Bumper. Oddio, mi si è bugato lo schermo. Fermo. Spengo lo schermo, regà, un attimo. Ok. Lo riaccendo. Mi si è bugato lo schermo. Ok. Lo riaccendo. Mi si è bugato lo schermo. Ok. Lo riaccendo. Bella, sono... Sono un top boss. Bella, Bumper. Ok. Lo riaccendo. Bella, sono... Sono un top boss. Bella, Bumper. Ok. Ciao, Laura. Bella, sono... Sono un top boss. Bella, Bumper. Tutto bene. Ciao, Laura. Bella, sono un top boss. Bella, Bumper. Ok. Sì, certo. Sì, è Lebronze. Sì, mi ricordo. Bella, Lebronze. Lebronze, ti sei perso una bella partita. Ti sei perso una partita. 36 punti non gay. Mi senti? Ok. Sei una bagazzola. Ti senti, senti. Vediamo se trova la partita. Oh, che coraggioso questo membro da scrivere in live vai a scuola. Ok. Sono andato al suo canale, al suo canale, al suo canale, a 33 punti, a 33 iscritti e c'è un video void, a regg, vorrei entrare nei void. E fa solo 90 gradi. Ok. Ok. Grazie a tutti Raga ma quanto godete che la Juve è passata? Mi fai conto che sono di Napoli Eh, vabbè, attenta fastidio eh No, no, io ti fai un cazzo Mi diverto a prendermi il culo di mio compagno Io sono uno sportivo, mi piace guardare tutte le squadre però... Cioè in Champions alla fine è rimasta solo la Juve No, no, io prendo per il culo i miei compagni che ti fanno Juve E quando perdono... Uh, un pezzo di verde è lo sport Shit, bro, non ho fatto fare una partita, dai Axel, hai ragione Tu sarai da 14 anni ma mio nonno è da 86 anni, io ventino Quindi è un po' dura la cosa La guarda sempre Mi chi ha dripletta Ronaldo Mamma mia No, io... No, io... No, io guardavo le partite Cioè... Dei coglioni ricordo che Corona ha preso una balla Come sai, frate... E' come noi quando dobbiamo uccidere uno inseguiamo un bot E' così che funziona, no? E' beh, è più divertente il critico Quando vedi un bot che scappa Dove cazzo scappi? Vieni qua, bastardo Prego mo' se gioco un attimo con sto ragazzo Poi magari più tardi arriva Vabbè, se non va facciamo... Fai facciamo uno più uno con i due scritti, no? Fai... Che ne so Come prima Se non va... Se proprio non va, non va Mi sa che stacco Mi vado a riposare un po' Perché me sto avviaccando Fidati Porca schifo Dai, ho una partita Bella Corro, bella Bomber Dai, oggi pomeriggio ma lo fai un provino da 20 bombe Chi è io? Eh Eh, forse Eh, forse È il modo più efficiente per trovare compagni di due Su cui mettere un contratto Sì, contratto Dammi soldi, prima Contratto Cazzo, bastardo Io i primi non sono uno che firma contratti se non mi conviene Cioè, figurati, non si fa manco in classifica Si ferma a 52 la classifica Eh? La classifica si ferma a 52 51 Eh, no, facciamo un game Se ce lo fa fare un altro game Arriviamo a 60 e passa Non so, voglio vedere Non so, le bronze Forse vogliamo saltare una partita Quintiamo e rifacciamo Vai, invitami tu Ok Mi cerco di aggiornamento Bella, samurai Do coglioni ho Mi sto annoiando Do coglioni ho Facciamo così Allora Mi sto annoiando Metti Metti pronto Mazzino Ma metti pronto Quitiamo e rimettiamo la partita Poi Quitiamo poi Andiamo su dominare la discoteca Eh, uscio, rientramo uscio Bella, samurai Bella, bomber Buongiorno, lau Ciao ragazzi Mi ricordo che stavate supportare Il testo 96 Dovete passare sui passaggetti Supporta creatore Scrivete il nome del testo 96 In questo modo Supportariette il testo E il nostro E il nostro Grazie tantissimo E buona visione Vai, esci Sì, col cazzo che vengo Avevo un po' di rispetto, no? All right No, sbagliato Bella, Willy Bella, Willy Ciao ragazzi Ciao ragazzi Take G502 Non lo so, Arian, ci sto pensando Micchia, ma veramente così fanno schifo i server? Cioè, prima ce l'ha trovata subito E' il programma E' il programma Logitech Ma anche oggi ci sono nuovi eventi che ci cominciano a fare capire che la Season Nooo Nooo Ah vabbè dai, io Mi sta continuando a spegnere e riaccendere il monitor Se vuoi sopportarmi come creatore Puoi mettere semplicemente mouse E' scritto come nome del canale Direttamente dentro lo shop di Fortnite E così facendo potrai sopportarmi con i tuoi acquisti E ricordati poi di inviare la foto nell'Instagram Che trovi qui sotto in iscrizione Con il nome con cui vuoi apparire in qualche video Detto ciò, buona visione Per mani Ma E' altro video No 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 I'm sorry It's Sì, ho detto che c'è questa cosa? Mi asci怕 che di più me che... C'è un'Doesbe del gusto? Sì, c'è la scuola come buona? Spendendo il chicken in il ilè di cheese, is che aunglo? Ok, e che è meglio. niente niente non trovo proprio niente no? mouse logitech g502 no non trovo niente niente